bentornati ragazzi ancora una volta qui sul canale ma soprattutto amici miei bentornati ancora una volta qui dopo mesi per parlare di applicazioni e quindi la nostra sede dedicata alle app da avere app utili e oggi torniamo in compagnia di google con un'applicazione che fidatevi di me può salvarvi la vita e risolvere un po di problemi soprattutto per chi ha pochi giga sul proprio dispositivo ma voglio andare direttamente al punto quindi voi sapete bene cosa fare per supportare questa serie di video e nulla partiamo e iniziamo allora ragazzi partiamo subito col dire che l'app in questione è google files google files è un'applicazione gratuita disponibile solo per gli smartphone android che si concentra come facilmente ovviamente intuibile dal titolo sulla gestione dei file ma con qualche chicca che secondo me non va assolutamente sottovalutata e visto che ci sono comunque tante cose interessanti per quanto riguarda questa applicazione ho deciso comunque di dividere diciamo questa recensione questo video in tre punti in modo da arrivare a quelle che sono le cose principali secondo me da tenere in considerazione e partiamo quindi subito dal punto 1 o meglio gestione dei file semplici e veloce partiamo dal fatto che files di google è appunto un'applicazione non solo con una grafica comunque ben fatta una user experience molto piacevole abbastanza minimale per quanto riguarda l'interfaccia bella pulita quindi con ovviamente anche la possibilità di averla in modalità dark come piace a noi ma la cosa importante è che gestisce il tutto veramente in maniera impeccabile se voi infatti attappate su sfoglia che avete diciamo nella parte in basso avete accesso ad una serie di categorie preimpostate in altro per esempio abbiamo i recenti e scendendo poi abbiamo download immagini video audio documenti e app tappando poi su ogni categoria all'interno troveremo automaticamente tutto diviso in ulteriori sezioni che vi permettono in due secondi di accedere a tutti i file desiderati e aprire o eliminare ma di questo comunque per quanto riguarda l'eliminazione ne parleremo poi approfonditamente un pochettino più avanti nel video tornando al nostro discorso però ci basta solo dire adesso che possiamo modificare ulteriormente la visualizzazione dei file come ad esempio la grandezza delle icone se si diciamo se così possiamo dire o comunque l'ordine di visualizzazione cronologico alfabetico eccetera quindi tutto super semplice e una volta presa un attimino così la mano se così possiamo dire vedrete che gestire i vostri file sarà veramente un piacere andiamo però a questo punto al punto 2 o meglio condivisione semplice di tutti i vostri file entrando infatti nella sezione di condivisione in basso a destra avete la possibilità di condividere file con altri utenti in maniera semplice e veloce e soprattutto senza connessione dati basta semplicemente attivare la posizione e avere uno smartphone con la stessa applicazione ma qui non voglio perdermi troppe chiacchiere perché effettivamente è super diciamo easy come utilizzo quindi provatela perché potrebbe comunque velocizzarvi proprio il vostro workflow se così possiamo dire anche perché a volte può aiutarvi anche sotto questo punto di vista ma adesso arriviamo alla caratteristica secondo me più importante proprio per quanto riguarda questa applicazione o meglio quello che si concentra su liberare la memoria e tutto con un tap questa applicazione ha diciamo una funzione proprio generale dedicata all'aliminazione delle app e quindi alla gestione anche della memoria che troviamo proprio nella parte iniziale quindi una volta aprita l'applicazione noi ci troviamo proprio di fronte questa schermata con in alto la visualizzazione un attimino della memoria del nostro dispositivo in modo da capire anche quanto ne occupiamo e quanto ne abbiamo libera e abbiamo poi diverse categorie che appunto l'applicazione stessa ci consiglia magari per liberare un po di memoria per capirci meglio abbiamo per esempio una sezione dedicata alle applicazioni meno utilizzate che magari potreste diciamo così eliminare quindi fare un po' di decluttering come piace a noi e proprio al riguardo ho realizzato un video sul secondo canale mi raccomando lo trovate in descrizione quindi magari fateci un salto un what's on my minimal phone una cosa del genere molto particolare un attimino diversa dove ci facciamo un piccolo ragionamento ma poi abbiamo per esempio anche una cartella una categoria dedicata ai file grandi che magari potreste eliminare perché non so non vi servono e quindi gestire al meglio questa cosa e il tutto con un tap vi ripeto un'altra cosa molto importante è che entrate in questa categoria voi non solo potete eliminare tutto e quindi come vi consiglia in generale l'applicazione ma potete eliminare ovviamente anche un singolo file e ogni file nella parte in basso ha indicato poi quello che è in generale la dimensione appunto del file della fotografia del video eccetera quindi vi permette proprio di gestire e liberare la memoria dei vostri dispositivi veramente in maniera super super semplice ed è un'applicazione che appunto vi consiglio soprattutto sotto questo punto di vista perché per chi come me magari ha uno smartphone da 64 giga sia il mio iphone che il mio smartphone android in questo caso il oneplus 6 spesso diciamo si trova un attimo in difficoltà sulla gestione dei file anche sulla memoria perché 64 giga ultimamente soprattutto se registrate tanti video in diciamo 4k diciamo che la cosa si inizia a fare un attimo complicata e con questa applicazione vi riuscite a gestire il tutto al meglio quindi veramente ragazzi è da tenere sotto controllo e secondo me google con questa applicazione ha fatto di nuovo centro è un'applicazione veramente molto molto ben fatta anche qui abbiamo qualche piccolo accorgimento lato design che magari prima mi è diciamo così sfuggito per quanto riguarda la cura dell'interfaccia che vi lascio magari qui sopra impressione sono veramente comunque molto molto ben fatte come applicazioni insieme anche a google go che vi lascio magari il video dedicato sempre in descrizione diciamo che google si sta comportando abbastanza bene ci sono altre applicazioni così interessanti su cui magari bisogna fare un piccolo focus trovando delle piccole chicche ragazzi su altre applicazioni che già abbiamo analizzato quindi mi raccomando rimanete attivi sul canale attivando la campanellina e nulla direi che per oggi potrebbe che bastare io come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare, a iscrivervi al canale se avete fatto e se avete domande, dubbi, cose sempre qui sotto nei commenti vi ringrazio per tutto il supporto e vi ricordo di seguirmi su instagram fondamentale detto questo ciao